Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete parliamo di scarpe da trail, vedremo insieme vari tipi di suola, intersuola, linguetta, tomaia, eccetera. Cercherò di aiutarvi a scegliere la miglior scarpa per voi e per il terreno che dovete andare ad affrontare. Ma iniziamo col video. Iniziamo questa guida parlando naturalmente dalla suola. Quando andiamo a correre troviamo di solito quattro tipi di terreno. Il terreno misto, quindi magari un po' di single track, un po' di roccia, un po' di fango. Oppure possiamo trovare dei terreni fangosi, quindi terreni molto morbidi dove c'è tanto fango. Terreni duri dove abbiamo tanta roccia. Oppure dei terreni misti ad asfalto, quindi magari del semplice sterrato più tanto asfalto. Per ogni categoria di questi terreni naturalmente è stata fatta una scarpa, diciamo, apposta. Iniziamo parlando di quello che sono il 90% delle scarpe che troviamo in giro, ovvero le scarpe da terreno misto. Queste scarpe devono garantirci una buona aderenza, come dicevamo, un po' ovunque. Primo tra tutti, naturalmente devono garantirci aderenza su terreni tipo single track o strade bianche, che è dove normalmente si svolge la maggior parte dei trail. In questo caso troviamo un tassello che normalmente va tra i 3 e i 4 mm, un numero alto di tasselli, perché comunque di solito queste qua hanno abbastanza un bel numero di tasselli, e dei tasselli di dimensioni, possiamo dire, medie, né troppo piccoli ma nemmeno troppo grandi. Appunto queste qua, essendo scarpe pensate di far fare un po' di tutto, hanno una tassellatura che è una via di mezzo tra tutto, naturalmente. E adesso capiamo anche il perché, dico che è una via di mezzo, andando ad analizzare anche le altre categorie. Continuando arriviamo a parlare magari dei terreni morbidi. Terreni morbidi, ovvero fango, oppure neve, ma in questo caso analizziamo il fango. In questo caso troviamo una tassellatura che di solito è ben spaziata, quindi magari abbiamo un numero minore di tasselli. Questo per far sì che il fango, quando corriamo, vada a liberarsi molto velocemente, evitando che si formi lo zoccolo sotto la nostra scarpa. E troviamo anche un tipo di tassellatura che è abbastanza alta. Ad esempio in questa scarpa abbiamo una tassellatura da 6 mm, alcune volte può essere anche superiore. Diciamo che comunque se una scarpa è appositamente pensata per correre sul fango, almeno un 5 mm dovrebbe avercelo. Continuiamo, arriviamo poi a parlare delle suole per terreni rocciosi. Qua troviamo una suola dove il 90% deve farlo il grip, la mescola della suola. Non stiamo ad analizzare tutte le mescoli presenti sul mercato, perché sennò finiamo domani che ogni casa produttrice praticamente ne ha una. Però tornando a noi, una suola pensata per roccia è una suola che di solito ha un basso numero di tasselli, dei tasselli magari anche un pochino larghi per garantire una buona presa e un numero in sé di tasselli che non è troppo elevato. In questo caso, come vi dicevo, queste sono le tipologie di suole, ma il 90% della performance lo fa il grip in sé della mescola. Arriviamo dunque all'ultima categoria, ovvero le scarpe, pensate un po' per fare sia asfalto che sterrato. Troviamo delle scarpe che di solito hanno un alto numero di tasselli, questo per aumentare la superficie di contatto con il terreno e evitare che ci sia troppo spazio, perché comunque non ce n'è bisogno in questo caso, ma si preferisce una tessellatura maggiore. Troviamo dei tasselli che possono essere abbastanza corti, anche 2 mm, 3 mm per questo tipo di scarpe, e come vi dicevo vanno bene un po' per sia asfalto che sterrato. Sono una via di mezzo, vengono chiamate door to trail, ovvero da casa al trail per fare un po' d'asfalto, però come funzionamento di solito vanno bene solo su asfalto o strade bianche. Evitate di portare su fango o roccia, perché lì di solito non hanno un grandissimo grip. Concludiamo le suole volendo sfatare un mito. Io sono sicuro che tantissimi di voi staranno pensando, beh ma basta che compri una Vibram Megagrip e sei a posto seduto alle superfici. Questo non è vero. Allora, quando Vibram va a dare la propria suola ad altre case che costruiscono le scarpe da trail, lì la mescola, quindi la mescola Megagrip, quindi il materiale con cui è fatto la suola. Poi il tipo di tassello, la grandezza del tassello, l'altezza del tassello, lo decide la singola casa produttrice. Può capitare molte volte che magari la suola Megagrip si lavora bene anche su roccia bagnata, ma siccome l'azienda che produce la singola scarpa ha studiato male il tipo di tassello, la scarpa non è pensata magari per il fango, eccetera, c'è il rischio comunque di scivolare. Quindi tenete bene a mente che Megagrip non vuol dire aderenza ovunque. È una buona mescola, ha sicuramente i suoi vantaggi, ma non è una garanzia. Passiamo ora a parlare dell'intersuola. Anche qua di intersuola esistono tantissimi, ogni casa ne sta sviluppando uno proprio. Però possiamo reagrupparli tutte in tre diverse categorie. L'intersuola a bassa densità, a media densità e ad alta densità. Iniziamo quelli da bassa densità, ovvero un'intersuola che normalmente ha all'interno poco materiale, quindi ha molto spazio per comprimersi. Questo normalmente viene utilizzato per scarpe pensate per le ultra, perché dà un'ottima ammortizzazione. Le scarpe a bassa densità sono quelle che vengono utilizzate davvero per tante tante ore in gare molto lunghe. Di solito quando abbiamo una scarpa a bassa ammortizzazione, troviamo anche un'altezza dell'intersuola abbastanza generoso. Nell'ordine dai 2,5 cm ai 3, ma anche oltre. Questo perché viene così fornito all'atleta un'intersuola veramente alto. L'unica pecca di questo intersuola che si ammortizza tanto, però normalmente non ha una grande reattività, proprio perché sprofondando all'interno dell'intersuola sarà difficile avere una buona reattività. Questo intersuola poi è anche il meno durevole di tutti. Avendo molta zona per comprimersi, andrà a consumarsi molto velocemente, nell'ordine solito dei 400-500 km. Magari qualche casa fa qualcosa in più, ma diciamo che 500 km solito è la vita di una scarpa da ultra. Questo tipo di intersuola però è poco consigliato per persone abbastanza pesanti. Questo perché non avendo un gran sostegno nella parte dell'intersuola, è molto più facile che queste persone possano prendersi delle storte. E anche vista l'altezza che normalmente i produttori inseriscono dell'intersuola. Quindi se pesate abbastanza, con abbastanza intendo magari anche più di 100 kg, meglio magari optare su scarpe con un'intersuola a media densità. Appunto parliamo di intersuola a media densità. Questo all'interno ha una densità appunto media, quindi né troppo ammortizzante ma nemmeno troppo secca. Il materiale all'interno è una via di mezzo, ha ancora abbastanza aria per riuscire ad ammortizzare, ma un pochino meno. Queste sono un pochino più reattive rispetto a quelle a bassa densità e come range di vita hanno un range diciamo superiore, tra i 700 e gli 800 km. Per quanto riguarda gli utilizzi, con una scarpa del genere potremmo farci tranquillamente magari anche una gara da 100-150 km. E per quanto riguarda invece il peso dell'atleta diciamo che può andare bene un po' per chiunque, sia dalla persona abbastanza leggera, sia dalla persona un pochino più pesante. Terza categoria sono quell'intersuola ad alta densità, ovvero all'interno questo intersuola ha tanto tanto materiale e poco spazio per comprimersi. Questo tipo di calzatura risulta essere una calzatura molto molto reattiva, però poco ammortizzante, quindi la utilizziamo su tipi di gare abbastanza veloci, abbastanza corte, quindi magari al massimo una 30-35 km. Questo tipo di scarpa poi è anche la più longeva, può passare anche i 1000 km come utilizzo e va bene anche questa un po' per tutti gli usi, sia dai corridori un pochino più leggeri a quelli un po' più pesanti. Altro aspetto da analizzare per quanto riguarda le scarpe da 3 running è il drop. Qui possiamo passare da un drop zero, quindi una scarpa che non ha differenza tra l'altezza sul tallone e l'altezza sull'avampiede, a scarpe che hanno un drop 12 mm, quindi che il tallone è 12 mm più alto rispetto all'avampiede. Il mio consiglio è soprattutto se iniziate a stare su un drop tra i 4 e gli 8 mm. Evitate drop da 10-12 mm perché davvero vanno a stravolgere molto la vostra dinamica di corsa e possono essere controproducenti. E allo stesso modo, se non siete troppo allenati, evitate anche il drop basso da 2 o 0 mm. Questo perché se non avete una buona tecnica di corsa rischierete di farvi abbastanza male. Negli ultimi anni poi sono iniziato a uscire anche delle scarpe da trail con piastra in carbonio. Questo vuol dire che all'interno troviamo una fibra di carbonio che va a rendere la scarpa molto molto rigida. Diciamo che il discorso per quanto riguarda l'amortizzazione rimane lo stesso, quindi bassa media e alta densità, quello del discorso rimane lo stesso. Quello che cambia è che su una scarpa a bassa densità con piastre di carbonio si va ad aumentare la reattività e anche il minore dispendio di energia perché la piastra evita che il nostro piede faccia troppi movimenti quindi va a farci risparmiare energia. Scarpe in piastre di carbonio le consiglio solamente ad atleti medio evoluti. Se siete alle prime armi veramente evitatele perché rischiate solo di farvi male. Continuiamo e iniziamo da parlare tutta la parte superiore della scarpa, sopra l'intersuola, iniziano dal puntale della scarpa. Qui generalmente troviamo due tipi di puntale. Un puntale molto morbido, quindi un puntale che va a proteggerci molto poco in caso avessimo tirare qualche calcio a radici o sassi e in quel caso lì rischiamo che ci vengano molto facilmente delle unghie nere o addirittura di perdere l'unghia. Invece poi ci sono puntali abbastanza duri, rigidi che vanno a proteggerci completamente da qualsiasi urto. Diciamo che questi due puntali hanno uno scopo specifico. Puntali molto morbidi fanno sì che la scarpa sia più leggera e in questo caso questo tipo di scarpe le utilizziamo su terreni molto semplici dove è più difficile trovare radici o sassi. Quindi magari strade di fondo valle, single track o strade bianche. Scarpe invece con i puntali belli, duri e rigidi li possiamo utilizzare sia naturalmente su i tipi di terreni che vi dicevo prima ma anche su terreni abbastanza difficili. Può essere roccia, sentieri molto sconnessi perché se prendiamo dentro in qualche ostacolo non sentiremo nulla. Continuiamo il nostro video e arriviamo a parlare della tomaia. Qui possiamo trovare di solito quattro tipi di tomaie diverse. Tomaie poco traspiranti, mediamente traspiranti, molto traspiranti o tomaie impermeabili. Per quanto riguarda le tomaie poco traspiranti, ormai non ce ne sono tante in giro. Gli produttori stanno andando sempre più verso tomaie almeno mediamente traspiranti tanto che io non ho qua nessuna scarpa da farvi vedere. In questo caso abbiamo delle tomaie che fanno sudare tanto, delle tomaie che magari sono più consigliate in periodi invernali perché tengono un pochino più caldo. Tomaie che quando magari la scarpa si va a bagnare difficilmente fanno uscire l'acqua. Sinceramente tomaie poco traspiranti non ve le consiglio. Più o meno puntate su una media traspirabilità. Appunto parliamo di tomaie mediamente traspiranti. In questo caso sono le tomaie più diffuse. Sono anche le migliori perché hanno anche un buon sostegno laterale per quanto riguarda il piede. Hanno un buon compromesso tra traspirabilità e comunque isolamento anche termico. Diciamo che sono quelle veramente più diffuse. Ecco, la differenza numero uno rispetto alle tomaie molto traspiranti la fa quello che è proprio il sostegno laterale del piede perché nelle tomaie molto molto traspiranti normalmente si ha una tramatura che è talmente larga per far passare l'aria che allo stesso modo non tiene all'interno molto bene il piede. Diciamo che una tomaia mediamente traspirante la può utilizzare in qualsiasi tipo di corridore. una tomaia molto traspirante, ma veramente quelle super traspiranti, è meglio se si ha una buona tecnica di corsa perché non si ha questo gran sostegno dalla scarpa. Come capire quando una tomaia è poco tanto mediamente traspirante? Io vi insegno un trucchetto, ovvero quando andate a prendere la scarpa, infilateci la mano dentro. Ci infilate la mano dentro, se vedete molto bene la vostra mano allora molto probabilmente quella tomaia sarà tanto traspirante. Se la vedete a tratti, vedete un po' di rosastro a vostra mano allora quella tomaia sarà mediamente traspirante. Se non la vedete proprio la vostra mano è una tomaia che sarà poco traspirante. Per quanto riguarda invece le tomaie impermeabili beh, qui diciamo che il Gore-Tex la fa da padrone nel mondo del trail running come vi dicevo, sono tomaie impermeabili, non entra l'acqua attenzione che molte volte sono poco traspiranti e anzi l'acqua difficilmente esce se dovrebbe entrare il mio consiglio sulle scarpe impermeabili è quello di comprarle solo se andate a fare o roba sulla neve o roba dove praticamente sarete sotto l'acqua tutto il giorno. E sempre parlando di tomaia, esistono anche delle scarpe con una tomaia impermeabile anche con una certa termicità magari con la tomaia che arriva anche fin sopra la caviglia e queste sono particolarmente pensate sia per proteggerci dai sassi che soprattutto per correre d'inverno. Queste scarpe qua appunto vanno bene solo per il periodo invernale evitatele di usare in altre stagioni perché morirete di caldo e anzi sarà decisamente controproducente. Dopo la tomaia analizziamo il tallone anche qua troviamo diciamo tre tipi di tallone le scarpe con tallone per nulla strutturato mediamente strutturato o un tallone rigido iniziamo dalle scarpe con un tallone per nulla strutturato sono scarpe che rischiano di farci venire un bel po' di storte se non abbiamo una buona tecnica di corsa non abbiamo delle buone ginocchia. Il mio consiglio è se non siete atleti evoluti evitatele davvero evitatele perché rischiate solo di farvi male. almeno puntate a un tallone mediamente strutturato quindi un tallone che nella parte inferiore magari ha un po' di struttura pian piano si destruttura cosicché avviate magari una scarpa meno pesante ma comunque abbastanza strutturata può solo andare bene un po' per tutti anche se se soffrite di caviglia debole meglio evitarle se appunto avete problemi con la caviglia meglio andare su una scarpa con un tallone completamente rigido per intenderci quello che può essere un tallone molto simile a una comune scarpa da ginnastica in questo caso avremo una scarpa che difficilmente ci farà prendere delle storte quindi anche qua in base alla vostra tecnica di corsa esperienza e sensibilità della caviglia fate la vostra scelta arriviamo a questo punto a parlare della linguetta qui abbiamo tre tipi di linguette la linguetta che praticamente non esiste è un tutt'uno con la tomaia seconda categoria delle linguette che ci sono, esistono ma sono veramente molto molto sottili terza categoria delle linguette imbottite come possono essere le scarpe anche da running classiche le linguette che non esistono che sono un tutt'uno con la tomaia fanno sì che la scarpa sia abbastanza difficile da gestire il piede all'interno avrà una calzata cosiddetta a calzino e se non siete particolarmente esperti io ve le sconsiglio perché di solito su questo tipo di scarpe c'è davvero molta facilità di prendersi una storta e se allacciate veramente molto forti i lacci sentirete una bella pressione sul collo del piede quello che potreste già iniziare a considerare se siete atleti di medio livello sono delle linguette abbastanza sottili quindi vanno a ridurre il peso della scarpa svolgono il loro lavoro di isolarci dai lacci ma alla lunga possono magari andare a dare un po' fastidio o comunque iniziare alla lunga a far sentire la pressione dei lacci se siete delle persone che iniziano comunque che non hanno una grandissima tecnica di corsa meglio andare su una linguetta imbottita con una scarpa comune in quel caso lì andate su sicuro non avete problemi di solito questo tipo di scarpe sono anche quelle che evitano il maggior numero di storti quindi diciamo che se andate su una scarpa con linguetta imbottita non sbagliate mai e visto che ve l'ho citati parliamo anche dei lacci anche qua possiamo trovare tre tipologie di lacci il laccio più comune, più classico quello a cui siamo abituati a cui fare il nodo un laccio invece quick lace come si chiama studiato dalla casa produttrice in modo tale che riusciamo a chiudere la scarpa molto velocemente ad aprirla molto velocemente mi viene un esempio quello di Salomon giusto per dirne uno e poi abbiamo invece un'allacciatura proprietaria chiamata boa che per intenderci è una rotella che si va ad aprire e chiudere e in questo modo va a serrare la scarpa per quanto riguarda il boa invece ho da darvi un consiglio evitate i boa singoli quindi una sola a rotella tutte le scarpe che ho provato fino adesso con un singolo boa tendono a non chiudere tanto l'avampiede quindi abbiamo una scarpa che non è molto serrante sull'avampiede e l'avampiede tende a muoversi il mio consiglio è se volete un boa andate almeno su una scarpa col doppio boa in quel caso lì avendo un boa che chiude l'avampiede un bò che chiude il collo del piede potremmo serrarla al meglio penultimo argomento che trattiamo la soletta diciamo che il 90% delle case utilizza solette ortolite molte volte sono riprendizzate quindi magari all'interno trovate il nome della casa produttrice della calzatura però in generale ortolite è quella che la fa da padrone su quasi tutte le scarpe da trail infine ultimo parametro che andiamo ad analizzare sulle scarpe da trail running è la grandezza dell'avampiede abbiamo delle scarpe che sono molto strette mediamente strette e abbastanza larghe le scarpe molto strette di solito sono scarpe pensate per gare abbastanza veloci di pochi chilometri dove c'è bisogno di correre di spingere dove magari vogliamo anche una calzata molto precisa e dove molte volte il piede non ha nemmeno il tempo di ingrandirsi e gonfiarsi perché finiamo prima la gara esistono poi le scarpe da ultra trail running in quel caso lì i produttori le fanno un pochino più larghe ed è normale questo perché sono già pensate che a furia di camminare e di correre magari anche per dei giorni il piede tende ad allargarsi quindi è molto facile che quando magari andate a provarle vi sembra che il piede all'interno si muova perché l'avampiede è un pochino largo ma non vi preoccupate è normale esistono poi invece le scarpe pensate per chi ha una pianta larga quindi delle scarpe pensate appunto con un avampiede molto generoso un avampiede dove se noi abbiamo il piede stretto all'interno ci bagliamo tantissimo ci sono pochi marchi che le fanno però comunque esistono qui sta a voi un mio consiglio è prendete tirate fuori la soletta mettete il piede sopra la soletta e guardate se il vostro piede è più largo che la soletta voi che avete bisogno di una scarpa sicuramente più larga arriviamo alle conclusioni di inque per le scarpe da trail so che di solito vi do un po' di alternative vi do un po' di prezzi vi dico un po' cosa comprare in questo caso è veramente difficile perché esistono troppe scarpe troppe tecnologie troppi produttori i prezzi oscillano tantissimo quindi non riesco a darvi una categoria singola per ogni tipo di scarpa io comunque spero che con questa guida voi possiate scegliere al meglio la vostra scarpa da trail in modo tale da avere la migliore per la vostra corporatura il vostro allenamento e il terreno che dovrete andare ad affrontare e tutto ciò ragazzi io nella speranza che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo ciao